Questi giorni li vivo con una grande responsabilità sociale, quindi rimango a casa, cerco di approfittare di questi momenti per studiare, per lavorare, per scrivere. Ovviamente, ripeto, è un momento complesso, quindi sono anche molto concentrata sull'attualità, però credo che quello che stiamo facendo tutti assieme è una sorta di missione, quindi in qualche modo siamo qui per, anche se in casa e quindi distanti fisicamente gli uni dagli altri, per sostenere le persone più deboli, più fragili e per darci una mano gli uni con gli altri. Il fatto che esca un disco fit, stato di natura, che si basa sull'incontro in un momento così delicato in cui non possiamo incontrarci fisicamente è ovviamente molto strano, però credo anche che questo disco, proprio perché ha come caratteristica anche semplicemente sonora quello di essere un disco molto energico, pulsante, vivo, possa fare davvero bene in questo momento delicato e credo che possa portare anche una ventata di positività a tutte le persone che in questo momento sono a casa e credo che la musica non si debba fermare proprio adesso perché abbiamo bisogno di ascoltare musica, di coltivare bellezza, di fare cose che in qualche modo ci scaldano il cuore e ci mantengono vivi e anche sereni per quanto il momento sia complesso. Grazie a tutti.